Io farei un bel rush a mid, proprio. Se l'altra volta funziona per me. Vanno 15 pari, vanno così, eh. Fai un cazzo. No, lo Zeus, no, sono... NOOOOOO! No, sti merda, borgodio! Questa è un registra, ragazzo. Lo Zeus, lsd, lsd. Lsd. Non funziona più, manco il tasto destro. Cazzo, sì però tu non sai sparare per niente, eh. Cazzo.